a volte un'abitudine può cambiarti la vita un'abitudine ti può cambiare totalmente il modo di quelli che sono risultati che puoi ottenere e quello che si dice che come fai una cosa fai l'altra cioè se sei come si dice qui in romagna uno scaravanone un disordinatore magari a casa molto probabilmente lo sei anche in ufficio con le tue cose molto probabilmente lo sei anche come approccio di comunicazione quindi è molto importante cercare di ragionare per trasformare il nostro modo di operare ed è operato dalle abitudini quindi se tu prendi un'abitudine qualche cosa che esce dalla tua zona di comfort quindi qualcosa che ti stranisce però la rendi costante ti diventerà un'abitudine e quando si diventa un'abitudine sarà qualcosa di automatico ed è la questione di abitudini che ti porta poi a ottenere risultati diversi ti faccio un esempio mia moglie dopo aver fatto un corso con un grande a cui io tante volte mi ispiro o chiedo consigli che è dan boggiato inerente a uno stile di vita inerente anche a una tipologia di alimentazione ha preso l'abitudine per tutta la nostra famiglia di fare un paio di estratti al giorno con frutta e verdura ha fatto sì che non ci siamo ammalati sei l'influenza il raffreddore la febbre nell'arco di un anno e probabilmente magari sarà stata anche fortuna però io penso che questa abitudine di mangiare frutta e verdura in realtà assorbita in modo questione d'abitudine ha aiutato tutta la famiglia all'inizio è normale che ci doveva prendere l'abitudine nel dover prendere le verdure tagliarle tutti i giorni mettere nell'estrattore cinque minuti per farlo poi cinque minuti per pulire l'estrattore che chiaramente è una cosa che la mattina te la vorresti risparmiare però questa abitudine che è diventata una costanza e guai se non prendiamo l'estrattore la mattina è diventata un qualche cosa che però è nella normalità e ci ha portato risultati di famiglia di stare meglio ma questo può succedere un po anche nel business anche nell'abitudine mattutine magari puoi svegliarti mezz'ora prima e dedicare la prima mezz'ora di focus di concentrazione organizzazione pianificazione per quello che riguarda la tua giornata oppure la settimana o molto semplicemente puoi fare l'abitudine che tutte le mattine prima di lavorare potresti dedicare un po di sport per te come noi dell'ufficio abbiamo iniziato a fare io ale mattia la mattina ci troviamo non più in ufficio ma ci troviamo in palestra per fare mezz'oretta 40 minuti di attività scambiamo due parole magari serve per migliorare il nostro benessere diventano inizio cose strane ma poi diventano abitudini che portano risultati completamente diversi quindi a volte le piccole abitudine nell'arco del tempo possono portare a grandissimi benefici quindi la domanda che ti faccio è qual è l'abitudine che puoi portare nella tua vita per avere una vita migliore ma non solo nel punto di vista professionale anche dal punto di vista personale